Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare gli ultimi prodotti usciti in casa a Warlord Games per quanto riguarda il panorama della Seconda Guerra Mondiale, o per meglio dire Bolt Action, gioco per chi mi conosce, che io adoro a livelli disumani, ed è un gioco in scala 28 mm, quindi leggermente meno di Warhammer 40.000 per fare un esempio, ed è un gioco stupendo perché ci porta in campo a fare delle vere e proprie battaglie della Seconda Guerra Mondiale in tutte quante le epoche, tra virgolette, ovvero inizio guerra, a metà guerra o nel late war, e in tutti i panorami, ritroviamo l'Europa, ritroviamo la Russia, ritroviamo parte dell'Italia, che vi faccio vedere in questo modulo di espansione di oggi, o addirittura la guerra del Pacifico, in un prodotto che io non vi ho mai nascosto, è in assoluto il mio preferito al pari di Warhammer 40.000. E vi presento queste due cose di cui vi parlo a breve, dopo la sigla. Il primo che vedete qui davanti, Tough Gut, è il manuale di espansione per ambientare un'intera campagna, ora nel corso del video ve lo faccio vedere, in Italia. Quindi si parte in tutta quanta la storia italiana della Seconda Guerra Mondiale, lo sbarco in Sicilia, successivamente gli altri sbarchi, come ad esempio Adanzio, la marcia fino alla Winter Line, e poi la linea gotica, la marcia su Roma, addirittura la battaglia, o per meglio dire, la distruzione di Monte Cassino, e tantissime altre battaglie molto famose, qui riprodotte fedelmente, e concedetemelo in maniera accurata e storica. Infatti poi vi dirò, secondo me, un pochino i pro e i contro, che sono pro più che altro, sono magari contro perché per affrontare questa campagna c'è da fare una spesettina in particolare. E comprando questo manuale, che vi ricordo è solo in inglese, non c'è in italiano, per quanto i prodotti di Bolt Action regolamente tutto si trovano anche in italiano, però questi manuali di espansione, con campagne particolareggiate, non sono mai tradotti, sono in lingua originale. Qui trovate tutto l'occorrente per ambientarlo durante lo sbarco ad Anzio, in Sicilia, che se non era mi pare fosse a Gela, fino alla marcia, appunto, fino alla marcia su Roma, da parte degli alleati. Da quest'altra parte, invece, appena usciti nuovissimi, abbiamo gli Alpini, addirittura in una scatola da 35, 36 euro, 35, 99, qualcosa del genere, 30 miniature, dettagliatissime, scala 28 mm. E anche qui, poi dopo, aprirò in chiusura una piccola parentesi. Ve le facciamo vedere ora nel corso del video. Montati, però attaccate alle basette con il Patafix, perché c'è una cosa che per ora non vi vogliamo dire, ma mia moglie ha un progetto disumano, veramente è molto bello, e ci faremo un video al millimetro, allo zoom dedicato. Quando sarà il momento ve ne parlerò, però vanno dipinti, quindi era inutile montarle tutte quante, attaccare alla basette, perché anche le basette poi andranno dipinte a seconda dello scenario che utilizzeremo. E in questa scatolina trovate, appena usciti, forze italiane, gli Alpini, le penne nere, in early e mid-war, come riporta la scatolina. Quindi a inizio e metà guerra, nel late war non li potete, ovviamente, utilizzare. E sono veramente molto belle e dettagliate, perché trovate la divisione, ovviamente eravamo alleati dell'asse, senza andare a tirare fuori brutti termini, la divisione alpina, oppure trovate anche la divisione e la possibilità di schierarli nel deserto durante, appunto, la campagna, la campagna d'Africa. In Italia, come vi ricordate, anche loro furono utilizzate sia per la Decima Mass che successivamente anche, introdotti come rinforzo generale alla Folgore e agli altri, insomma, truppe d'elite italiane che avevamo. E quindi questa è una eccellente, una scatola sola, 30 miniature, aggiunta, anche perché 30 miniature, ma Bolt Action non è Flames of War, che vi porterò poi anche quella breve sul canale. Flames of War abbiamo sul campo 100 miniature, fra carri e tutto. Bolt Action è più da schermaglie. In Bolt Action, in una partita, si vedono un carro pesante, uno leggero, ma al massimo. Poi tutto quanto sono sconti di fanteria. Quindi 30 miniature, non vi fanno l'armata, ma quasi. E in questa scatola avete tutto l'occorrente per schierare nel periodo iniziale e nel mezzo della guerra, della seconda guerra mondiale, gli alpini in panorama italiano, in missioni che ritrovate direttamente dentro a questo manuale. È un manuale completo, è un manuale dove nelle prime, abbondanti 30 pagine in inglese, ci descrive tutto quanto gli sbarchi, ci sono nuove truppe, quindi ovviamente per la campagna italiana, all'inizio del periodo della guerra, degli sbarchi in Sicilia e ad Anzio, ci sono truppe dedicate, quindi anche gli stessi carri, gli stessi truppi delle forze alleate, oppure dall'altra parte delle forze dell'asse, si arriva a un certo punto in un periodo, anche andando avanti nelle missioni, dove se vi ricordate, l'Italia si era resa agli alleati, ma c'erano ancora delle divisioni che non volevano lasciare l'alleanza con l'asse, quindi alcuni degli italiani dell'esercito italiano rimaneva in mano all'asse, eravamo frammentati, ed altri combattevano dalla parte degli alleati, comunque diciamo che l'Italia era stata conquistata, sconfitta e piano piano, dopo ovviamente aver passato Roma, andando verso la linea gotica e successivamente verso la winter line, venivano sfondate tutte le difese nemiche per andare poi per procedere verso la Francia e la presa poi alla fine di Berlina a fine guerra, per preparare anche il resto degli sbarchi, operazioni Overlord e tutto quello che venne, e sfondando queste linee avevamo non solo il controllo della penisola, gli alleati, ma avevano la possibilità di un condotto per scacciare a casa sua il nemico e procedere, marciare appunto verso la Tana del Lupo, quindi è stata quella dell'Italia, sicuramente una delle campagne più importanti, assolutamente di tutte, perché la campagna del Pacifico era particolarmente lontana, ma la campagna in Germania, in Olanda, in Francia, in Russia, ma soprattutto quella in casa nostra, è stata decisiva per la vittoria degli alleati in seconda guerra mondiale e qua dentro trovate tutto quanto l'indispensabile per giocarla da inizio a fine. In conclusione, queste due aggiunte manuale, che lo potete prendere anche senza la scatolina, o la scatolina, tranquillamente, anche senza il manuale, sono un'aggiunta perfetta per tutti gli amanti di Bolt Action, però c'è un piccolo particolare, in questo manuale, nello schieramento delle missioni, vi chiede di andare a schierare delle cose che voi nel manuale base non avete, e qui trovate, ma non tutte, perché magari essendo ancora alleati dell'asse della Germania, avremo bisogno di truppe che qua dentro non ci sono, quindi le trovate nel Codex dell'Italia, oppure nel Codex della Germania, quindi dovete prendere anche i manualetti di espansione per poter giocare al meglio questa campagna. potete anche metterci un po' quello che ci avete fondamentalmente, il gioco non vi dice di no, però è una campagna storicamente accurata, quindi se magari al posto della Decima Mass ci mettete un altro tipo di truppa che non ci sta niente, non è di quel periodo, magari gli alpini nel 44, insomma, non sarebbe in Normandia, non sarebbe tanto bello e verosimile, quindi fondamentalmente se volete giocare una campagna storica come questa, prima vi consiglio di avere anche i manuali appunto delle varie epoche ere della Seconda Guerra Mondiale per quanto riguarda la nazione che andrete a schierare sul campo. Io come sempre ringrazio la Warlord Games per tutti i prodotti che mi ha fornito, è una collaborazione ormai che va avanti da anni e ne sono onorato a livelli veramente disumani, forse è la cosa che mi riempie più d'orgoglio di tutto il canale e non ve lo nascondo assolutamente perché mi piacciono veramente tantissimo, sono fanatico della Seconda Guerra Mondiale ed è una cosa a cui tengo. Se lo volete ordinare tutta questa roba primo link in descrizione in sua impressione dalla Gioco Libreria Semola non soltanto al miglior prezzo sul mercato ma ricordatevi che Gioco Libreria Semola è il rivenditore ufficiale di Warlord Games quindi di Bolt Action i prodotti di Bolt Action Gioco Libreria Semola ce l'ha tutti. Se volete ordinare questa roba che vedete andate sul sito e se Alpini non ci sono in lista oppure Alpini ma sono finiti mandate una mail al supporto della Gioco Libreria Semola e fate presente che arrivate dal mio canale dal canale di Coridan Gioco Libreria Semola farà il possibile per ordinarvi anche roba fuori catalogo non soltanto che l'ha finita in magazzino ma anche fuori catalogo e usate sempre il codice discount Coridan 7 per avere uno sconto del 7% e per spese superiori ai 79 euro complessive comprando qualsiasi prodotto anche penne colori qualsiasi cosa corriere gratuito in tutta Europa quindi anche fuori dall'Italia ordinate in 24 massimo 48 ore e arriva a casa quindi Gioco Libreria Semola non soltanto rivenditore autorizzato e ufficiale della Warlord Games ma è un servizio veramente eccellente io ringrazio la Warlord Games e date retta se siete come me giocatori io questo l'ho provato negli ultimi 5-6 anni vi dico la verità e ce ne ho 40 se siete giocatori di Warhammer Fantasy o Warhammer 40.000 e volete provare qualcosa in seconda guerra mondiale fatto altrettanto bene pieno di manuali e di cose da schierare bellissime sul campo date un'opportunità a Bolt Action e compratevi il set base Band of Brothers che costa un 98-100 euro Gioco Libreria Semola ce l'ha tra l'altro e avete dentro due schieramenti completi americani paracadutisti da una parte ovviamente come nella serie televisiva Band of Brothers e dall'altra parte i granatieri tedeschi ed è veramente una figata disumana e più c'è anche uno scenarietto dentro oltre al regolamento dadi e quant'altro quindi dateci un'occhiata perché Bolt Action è veramente una figata assurda primo link in descrizione sito della Warlord Games per vedere tutte quante le uscite ciao ragazzi alla prossima se questo video ti è piaciuto lascia un like e clicca sulla campanella per essere sempre aggiornato ricevere notifiche e non perderti nemmeno un video in uscita primo link in descrizione primi link che trovate ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook al canale mio di Live Twitch alla mia pagina Instagram e alla mia pagina TikTok che sono sempre aggiornate e su Twitch mano a mano troverete la programmazione aggiornata con tutte quante le live del giorno quindi guardatela sempre perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata mi raccomando iscrivetevi soprattutto ai social perché sono sempre aggiornati e se devo comunicare qualcosa anche per il canale YouTube lo troverete sempre lì ciao alla prossima